E' buon affidamento a Maria, vogliamo affidarci a lei, vogliamo affidare anche il popolo dell'Ucraina e il popolo russo, che c'è molta gente anche lì che soffre e noi non ci vogliamo girare dall'altra parte, brava gente. Voi come state? Come state? Oggi sono stato a Roma all'ambasciata ucraina e sabato poi sarà riportato tutto su Tg1 Dialogo, che riprenderà, per consegnare simbolicamente all'ambasciatore russo e all'ambasciatore ucraino la lettera di San Francesco, la lettera ai reggitori dei popoli, ai governanti, proprio perché non facciano soffrire il popolo loro affidato. La pace sembra che si avvicini, brava gente. Ma andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Vedo che si stanno aggiungendo tante persone, quindi buonasera a tutti, brava gente. E insieme vogliamo ascoltare il Vangelo, mentre attraversiamo le vie della città di Assisi, dove in un angolo dove c'era un'antica chiesetta e dove quasi sicuramente San Francesco, da giovane, veniva portato dalla mamma e dove altrettanto sicuramente da qui partì per andare in Puglia, combattere e anche lui vivere la guerra, quella guerra che poi ha ripugnato e ha detto che non gli apparteneva perché non era secondo Dio, uccidere un fratello. Ma andiamo al Vangelo, brava gente. Qui siamo a Porta San Giacomo, vedete? In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi ha il figlio, che gli chiede un pane darà una pietra, e se gli chiede un pesce gli darà una serpe. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Eccoci qui, brava gente, eh! La prima cosa che mi viene in mente leggendo questo Vangelo è un po' la verità di ciascuno di noi. Ve la dico, brava gente, questa verità, sì o no? Eh? Ve la dico sì o no? No, voglio sentirvi perché è una verità importante, eh! Ve la dico sì o no? Vediamo un po', vediamo un po' se ve la dico, la dico sì. Gesù ci dice, se voi che siete cattivi, vedete, sapete, un po' a volte il cortocircuito nostro qual è? E che pensiamo di essere migliori degli altri. E allora, e allora andiamo in cortocircuito, no? Invece se pensassimo anche al nostro grido, signore, pietà di me, che sono un peccatore, ma amato da te, le cose cambierebbero. Ci sarebbe più serenità, brava gente. Ma andiamo avanti, vediamo cosa ho scritto. Io ho dato un titolo a questa meditazione del Vangelo, sapete? Ho detto, siamo tutti francescani, siamo tutti francescani. E' una famosissima espressione questa, e adesso scopriremo insieme chi l'ha detta. Siamo tutti francescani. Tre verità ci vengono mostrate oggi. Una più importante dell'altra. Chiedete, cercate, bussate. Il Signore ci vuole far prendere coscienza di una verità fondamentale. Siamo mendicanti. Abbiamo bisogno dell'altro. Non significa essere scarsi, no. Ma la natura umana è fatta di relazioni, di sostegno, di sostegno reciproco, di fiducia, di solidarietà. Da soli siamo precari, imperfetti. Il cammino va fatto insieme, brava gente. Se c'è una verità nel francescanesimo, è quella di sapere ammettere la nostra povertà. Non tanto quella delle cose, ma quella esistenziale. Il dire, da solo non ce la faccio. Ho bisogno di te, fratello. Così nel Medioevo, Francesco si inventa la fraternità. Fratelli tutti. Proprio Francesco ci ha fatto un'enciclica. Penso a Eric Fromm, che ci dice quale sia l'amore per eccellenza. Sentite, perché questo è bellissimo, eh. La forma più fondamentale d'amore è l'amore fraterno. Con questo intendo senso di responsabilità, premura, rispetto, comprensione per il prossimo. Esso è caratterizzato dall'assenza di esclusività. Straordinario. Dall'assenza di esclusività. Cioè non ci sentiamo, come dire, esclusivi, eh. Cioè meglio degli altri, eh. Io ho la marca e tu non ce l'hai. Io sono Armani e tu sei uno straccione. Io sono, ve ne so, Pinco e tu sei panco, eh. No, 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 brava gente, no, eh. No, eh, no. Lo dico, no, eh. Questo ci porta anche a comprendere perché Papa Benedetto XVI, Papa Emerito, dopo un'udienza a Piazza San Pietro, salutando le persone con un pace e bene che gli venne spontaneo, aveva incontrato da poco qualche francescano poco noto, disse siamo un po' tutti francescani. È bellissimo, eh. Voi lo siete, brava gente, sì o no? Non sento. Lo siete? Lo siete un po' francescani, sì? Siamo tutti un po' francescani. È arrivato, è arrivato, vedo i sì, vedo i sì. Credo che in questa affermazione ci sia la verità del Vangelo di oggi. Un altro aspetto mi preme sottolineare. Gesù sta compiendo il viaggio verso Gerusalemme e si ferma per un momento di ristoro a parlare con i Suoi discepoli, facendo un discorso molto importante. Sta parlando a ciascuno di noi. Gesù ci invita ad entrare in relazione con Lui e lo fa attraverso la categoria più bella, l'immagine più intensa, quella del figlio. Sceglie una relazione, quella più forte, il legame più profondo, espressione della bellezza più vera, eh. E' il rapporto con il figlio. Questo per dirci anche e ancora che non ci abbandonerà. Un padre, una madre, non abbandonano mai un figlio. E anche se un padre o una madre dovessero dimenticarsene, lui non lo farà mai, eh. Non lo farà mai, brava gente. Il Vangelo ci sta dicendo di non smettere mai di essere sostegno, di essere riparo, di essere fonte di speranza per chiunque incontriamo. Vero, brava gente? Eh? E' bellissima. Cioè, Gesù dicendo così, eh, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il padre vostro. come a dire che il Signore è in testa, è un legame stupendo con noi. Cioè, ci dice, guarda, che tu sei mio figlio. E' il legame più, e' il legame più, secondo me, più prezioso, più importante. Io penso, non poteva dire di più. Non poteva dire di più. Vedete, a volte si rompe un matrimonio, ma il legame col figlio, no, brava gente. Una madre e un figlio, un figlio e una madre. Il papà e una figlia, la figlia e il papà. Non lo so, brava gente. Ma cosa c'è di più profondo di questo? Eh? Non c'è nient'altro, brava gente. E Gesù ci, davvero ci invita a riscoprire questo legame profondissimo. Ecco perché il Signore non abbandonerà. noi, ciascuno di noi, e' né il popolo ucraino o' il popolo russa. Avanti, brava gente. Buon viaggio, brava gente. Buona giornata per chi si affaccia a questo nuovo giorno, brava gente. E buonanotte per chi va a riposare. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, brava gente. Avete cenato? A me forse stasera, a me stasera, mi aspetta forse una pizzetta, eh? Eh, mi aspetta una pizzetta. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, brava gente. Eccoci qua, eccoci qua. ci siamo? Eccoci qua, eh? Come state? Allora, sabato, venerdisto a Roma, sabato, saremo in partenza per Gerusalemme, e vi invito a pregare per questo viaggio, che poi andrà in onda sulla Rai, vi avviserò il giorno, e non solo. a Gerusalemme, ho chiesto il permesso, ve la dico, ve la dico, di fare una diretta da uno dei luoghi più importanti, eh? Quello della morte e resurrezione di Gesù. E la sera, eh? Ci accontendano, brava gente. Quindi, vi invito già fin d'ora a prepararvi a questo momento di intenso, per chi crede sicuramente di preghiera, per chi non crede io vorrei invitare, perché so che ci sono anche molti non credenti che si affacciano su Buongiorno Brava Gente a raccogliersi, eh? Quindi vi metterò appena sul giorno e orario, vi avviso subito e voi passate parola. Andiamo avanti, brava gente, eh? Che dite? Eccoci qua, io devo trovare i saluti, e voilà. che abbiamo fatto. Allora, intanto saluto per i tanti messaggi, per i tanti saluti, insomma, per tutte le frasi che inviate, per i vostri canti, insomma, siete straordinari, eh? Brava gente. E poi, la signora Laura mi ha mandato questa frase, fintanto che ciascun uomo non sarà diventato veramente fratello del suo prossimo, la fratellanza non avrà inizio. Nessuna scienza, nessun interesse comune potrà indurre gli uomini a dividere equamente proprietà e diritti. Qualunque cosa sarà sempre troppo poco per ognuno e tutti si lamenteranno, si invidieranno e si ammazzeranno l'un l'altro. Dostoievski dai fratelli Karamazov, bellissima questa affermazione, brava gente, No? Fintanto che ciascun uomo non sarà diventato veramente fratello del suo prossimo. Avanti, coraggio allora, eh? Che ce la facciamo! Noi abbiamo un cuore grande, brava gente, abbiamo un cuore grande, eh? Ci abbiamo un cuore grande? Sì, sì, eh? Perché ci abita Dio, eh? Avanti, avanti. Vado ai saluti, vi ricordo, vabbè, che ci vediamo domani, l'email enzochiocciola sanfrancesco.org Poi, che altro più vi devo ricordare? Ah, il libro, chi lo desidera lo sapete, mandatemi l'indirizzo e io lo giro ad Alessandro, eh? Oppure il suo numero è 366 604 4754 ecco, dovrebbe essere questo, avanti. Vado ai saluti allora, brava gente, forti, forti, eh? Forti. Margherita vorrebbe gli auguri per il padre Pasquale e la sorella Francesca, ogni bene, ogni bene, eh? Pasquale mi pare fa il compleanno e l'onomastico Francesca, avanti, avanti. Poi Rosa vorrebbe una benedizione per il nipotino Gianmarco, tre anni oggi. Gianmarco, grande, Una preghiera per noi, Gianmarco, dilla un nome a Maria alla Madonnina. Poi Sonia vorrebbe gli auguri per Andrea, il figlio che oggi compie 21 anni. Avanti, Sonia, ogni bene, forte, eh? si è orgogliosa di tuo figlio. E a te, Andrea, coraggio, sai, Sant'Andrea c'è la grande chiesa ad Amalfi, bellissima, eh? Patrizia, il marito, di cui però non ho mai fatto il nome, compiono 45 anni di matrimonio, quindi a tutte e due un abbraccione da tutti quanti, la nostra preghiera, eh? Ogni benedizione. Tra cinque anni le nozze d'oro, le faremo, le faremo, eh? Ida vorrebbe gli auguri per la nipote Federica che diventa maggiorenne. Ida di Manopello, ci devo venire a Manopello perché ce lo so che avete il volto di Gesù, eh? Le compie 18 anni. Avanti, avanti, allora, maggiorenne, forte, eh? Forte, Federica. Poi, Torrisi Rosaria per lo zio che non sta bene, Avanti, per i ritiri, vedi, proprio qua accanto sono le suore della beata Angelina e domanda a loro e ti tratteranno bene sicuramente. Poi, Margherita Carbonari, l'abbiamo detto, Margherita, Sergio Cozzolino, grazie della poesia, pace, eh? Ogni bene. Tina Luraschi, per il nipote Leonardo, ogni bene, ogni bene Leonardo, forte, eh? Forte. Poi, eh, Rosa Cenzullo, l'abbiamo detto, per il nipotino Gianmarco, tre, sì, abbiamo detto a posto, ci siamo, ci siamo, abbiamo fatto tutto, brava gente, avanti, avanti, forti, e che San Francesco vi benedica e vi sostenga, coraggio. Mettete sempre, condivido, condivido, visto che ormai, andate forti, andate forti, condivido, per chi non gli arriva la notifica, io, ve lo ricordo, perché ogni tanto qualcuno mi scrive, ma su tutti i nuovi, mettete la campanella, vi compare una campanella, quando voi mettete, segui, la campanella, mettete, segui, esce una campanella, e la attivate, e vi arrivano le dirette, qualcuno dice, Enzo, è in diretta dai fori imperiali, la campanella, eh, poi ve lo fate dire, condividete, brava gente, e, per me, per voi, e per le intenzioni che avete nel cuore, scenda piena, ogni benedizione, eh, Padre, Figlio, e Spirito Santo, Amen. Buon cammino, brava gente, eh. Buon cammino,